Siamo qua ad Ecomondo con Alberto Maggio di Multitracks Italia e per sentire cosa hanno presentato qua ad Ecomondo. Benvenuti al nostro stand, siamo al padiglione C7 nell'area rifiuti, trasporto Rottami, energie rinnovabili e in questo padiglione esponiamo il semirimorchio Cracker Piano Mobile nella versione Cubac per trasporto su carri ferroviari e la vasca Rottami di Tec con sella per trasporto Coise, due anteprime nazionali che dimostrano sempre di più l'impegno di Multitracks nel portare l'innovazione in Italia per efficientare le filiere logistiche. Per noi è il quindicesimo anno di fila che siamo presenti ad Ecomondo ed ogni anno è una soddisfazione perché abbiamo ormai tanti clienti amici che vengono a trovarci e nuovi clienti che ci chiedono suggerimenti e confronti per poter iniziare un percorso insieme.